La mia piccola pianta di nespolo ha compiuto un anno e anche i piccioni vengono a salutarla. Piantiamo ognuno di noi un albero per ogni membro della famiglia, forse riusciremo a riforestare il mondo. Siamo talmente tanti sul pianeta che se lo facciamo tutti quanti riusciamo veramente a ritornare indietro e a vivere in un giardino e in un paradiso.